buongiorno a tutti dobre utra buon mercoledì 15 maggio 2024 sono le 08 23 minuti quando sto registrando questo video voglio iniziare dalla partita di ieri dove il villa reale o via reale se preferite ha vinto di nuovo in trasferta c'era questo dato interessantissimo perché è un dato anomalo anche perché non si riferiva solo a poche partite bensì a molti incontri andiamo a vedere sul pronostico punto it vedete 01 e il sistema ha proposto un gol vincente a 3.10 e quindi quota stellare grandissimo pronostico preso da pronostico punti nella sua versione premium naturalmente ma il punto è che questo incontro o si faceva proprio il no goal rischiando oppure era meglio lasciar perdere perché giocare un segno 2 era un rischio perché c'era comunque una squadra di casa che andava sin troppo bene appunto in casa il squadra ospite era una squadra chiamiamola arlecchino che subisce spesso però c'era tutto il resto c'è la tradizione da segno 2 e anche il oltre alla tradizione segno 2 c'era proprio il villareale che rispetto al girona vedete al 67 per cento di vittorie tra l'altro sto notando che questa partita non finisce mai in pareggio ieri non me ne ero accorto quindi questa tanta caratteristica di questo incontro però vabbè naturalmente se c'è l'89 per cento di segni 2 è anche normale e quindi che cosa dire sono contento che non che ci sia stato un pronostico vincente non goal da parte di pronostico.it perché pronostico.it perché sono sempre non contento ogni obiettivo per quanto rimanga sempre il libro quale scommesse calcio l'elemento più importante avere un supporto come pronostico.it premium che da ogni giorno tantissimi pronostici vincenti aumenta la vostra capacità di vincere di far bene i pronostici e eventualmente di vincere con le scommesse sportive per quanto concerne però questo incontro ripeto non era da pronosticare ok proprio il contrasto tra da di girona e villoreal poteva suggerire un no goal anche perché no goal era anche un elemento abbastanza buono qui però non era sufficiente ok quindi ricordo che il pronostico che esce qui non è un pronostico del libro io nell'intelligenza artificiale ho messo degli elementi del libro ma non è il libro al 100 per cento seguendo il libro al 100 per cento questa partita era meglio evitarla ok poi se invece facendo il pronostico nel libro quale scommesse calcio scivono golle e anche il sistema proponevano golle anche se la quota era così alta ci poteva stare ma non è questo il caso ora torniamo alla partita di oggi questa sera farò anche una diretta betting exchange proprio su questo incontro quindi vi aspetto sul canale qui su diretta betting exchange qui trovate le istruzioni per seguirmi in particolare youtube.com slash betting se non siete ancora iscritti ricordo che questo è un altro canale perché quello dove state vedendo il video corrente dove sto parlando ora è youtube.com slash giulio giorgetti mentre quello dove farò la diretta stasera è quello del sito betting exchange il sito ufficiale del marchio betting exchange che trovate su youtube.com slash betting exchange torniamo su atalanta juventus allora a proposito di questo incontro si gioca in campo neutro quindi le valutazioni si fanno con dati cumulativi e quello che possiamo vedere che l'atalanta sta andando alla grande e magari prendiamola anche qui su pronostico punti così quella ve la vedo direttamente da qui troppo italia allora al momento per questo incontro ricordo che i pronostici ufficiali sono quelli blu ed escono circa due ore prima della partita e al momento però c'è in decisione sui pronostici lampo che sono quelli che vengono forniti anche con diversi giorni di anticipo e over 1 e mezzo under 3 mezzo questo conferma che c'è incertezza su questo incontro perché non sono coerenti ok quindi questo è un dato molto importante da considerare per quanto concerne allora abbiamo detto che si gioca in campo neutro quindi non vediamo solo le statistiche in casa dell'atalanta ma vediamo le statistiche dell'atlanta in generale vedete anche quando gioca in trasferta stesso discorso per la juventus quello che possiamo notare è che l'atalanta sta andando molto bene segna sempre anche se in due casi ha fatto solo una rete hanno scusatemi perché sono invertiti quindi qui ho fatto due reti fatemelo dire bene perché sono abituato a vedere statistiche in casa perché in realtà le partite in campo neutro non vanno pronosticate partite in campo neutro amichevoli giovanili serie femminili non vanno pronosticate io adesso per motivi goliardici l'ho analizzata perché comunque la finale di coppa italia c'è interesse naturalmente per questo incontro e farò anche la diretta stasera però di sicuro non è una partita su cui scommettere bisogna scommettere magari come ho fatto io ieri sul beren e ho vinto tranquillamente facilmente come ho mostrato nella diretta betting exchange di ieri allora e allora per quanto riguarda abbiamo un po la tanta qui due reti tre reti due reti qui ne ha fatta una due reti no quindi segna quasi sempre almeno due reti tranne qui in trasferta con il marsiglia che ha fatto solo una rete la juventus come vedete fa molti pareggi e che da una parte vuol dire che è difficile batterla dall'altra comunque non mi manca la vittoria e se notate quando ha perso perso comunque con una sola rete di scarto è dato molto interessante che ho rilevato rivela rilevato anche qui ho messo almeno 5.000 per vederlo meglio qui sull'andamento pregara se vedete l'atlante la partita come sfavorita e poi diventata favorita e viceversa la juventus la partita come favorita è diventata sfavorita quindi questo va contro la juventus però ricordo uno che partita in campo neutro è una finale non va giocata la juventus proprio perché va così male proprio perché c'ha tutto contro magari stasera trova un po di di orgoglio trova la famosa partita perfetta che risana la stagione perché la juventus comunque inizio campionato è andata molto bene poi ha perso posizioni in classifica comunque la qualificazione in champions league che era il suo obiettivo l'ha ottenuto e se vince la coppa italia sostanzialmente ha raggiunto i due obiettivi anzi ha raggiunto l'obiettivo della champions e più ha vinto un trofeo quindi la posta in palio stasera per la juventus è altissima mentre l'atalanta potrebbe forse fare un po come la fiorentina ha due finali in testa vi ricordo che l'altranno la fiorentina stava in finale di coppa italia e stava anche in finale di conference league poi non ha vinto nessuna tre due forse distratta un pochino dal doppio elemento l'atalanta sta sicuramente in gran forma contro la roma che ha visto l'incontro avrete notato che ha fatto cose fantastiche però nel momento in cui la roma si è fatta viva poteva anche pareggiare quindi l'atalanta ha anche dei punti deboli diciamo il punto debole dell'atalanta è quando viene aggredita lei è abituata ad aggredire se c'è qualcuno magari proprio la roma con il fisico con lukaku e abram spostava il pallone avanti proprio quasi in una forma di rugby e sono riusciti a mettergli paura e quindi stasera si vedrà ripeto però ragazzi come spiego anche nel libro partite belle da vedere difficili da pronosticare pure ieri per esempio ho preso la partita spagnola perché era in teoria la più importante di ieri ma anche quella non era da pronosticare signo gol a 3.10 di pronostico punti di premium è stato vincente ma rimane il fatto che non era da pronosticare e ora ve lo prendo faccio vedere ieri per esempio pronosticato una partita qui del beren mi sono tenuto basso perché ha parecchio tempo che non giocavo come mostrato ieri perché solo diciamo adesso che sono tornato anche dalla turchia o più tempo per le scommesse sportive mi sto rimettendo però ha visto che mi sto rimettendo a scommettere visto che era parecchio tempo perché l'ultima partita l'ho fatta esattamente un mese fa l'ho fatta il 14 aprile e adesso 14 maggio non fatta un'altra quindi è passato direttamente un mese e non ho voluto partire volevo fare l'over due e mezzo questo incontro e questo addirittura fino 7 a 0 addirittura invece di mettere 10 euro perché c'è una cassa di 100 euro ho messo anche solo 5 euro quindi perché vi ricordo che non è che bisogna sempre mettere il 10 per cento bisogna mettere al 2 per cento 10 per cento però come vedete o il 92 per cento dei pronostici vincenti quando la serie positiva si può alzare la quota però ripeto qui era un mese che non giocavo ho detto fan fatemi andare piano ok però questo incontro per tornare al discorso della partita della finale di oggi piuttosto che la spagna di ieri questo incontro mi piaceva e invece non mi piaceva nel girona che avevo analizzato la mattina e non mi piace adesso la juventus con l'atlanta che ho fatto oggi però da un punto di vista sportivo anche un punto di vista di utilizzo tra piattaforma stasera vi mostro come fare quindi comunque come lezione didattica è importante io vi ricordo ragazzi lo dico all'infinito pronostico.it premium abbinato al libro quattro scommesse calcio vi permette di ottenere i risultati che ottengo io o quantomeno avvicinarmi io ho i pronostici più vincenti al mondo e voi vi potete avvicinare sempre di più a me ci sono tantissime persone che grazie a me stanno facendo bene migliaia di persone stanno facendo bene grazie a me proprio perché in tutti questi anni hanno capito che qui c'è competenza a differenza dei tanti fanfaroni che trovate su telegram su youtube e da altre parti questo è tutto ragazzi ci vediamo presto oggi c'è anche un pochino di mare perché ho fatto la diretta abbastanza presto e a quest'ora la luce abbastanza buona e sigla e ci vediamo questa sera ciao